Buonasera dal TG6, in apertura la pagina sindacale Lancia Abruzzo, CGL, CISL e UIL pensionati hanno siglato oggi un protocollo a Pescara per garantire risposte urgenti a pensionati e categorie deboli su fisco, trasporti e sanità. Ci dice tutto Paolo Renzetti. Presidente Lapenna, qual è l'importanza di questo protocollo firmato questa mattina con i sindacati? Lancia Abruzzo si impegna con gli enti locali abruzzesi in un percorso insieme ai sindacati per la tutela naturalmente di quelle che sono le fasce più deboli e più bisognose. Trasmetteremo questo protocollo a tutti i comuni, chiederemo ai comuni i loro protocolli perché molto viene fatto in Abruzzo dagli enti locali. Non vogliamo si torni indietro, quindi ci sia ancora massima attenzione per le politiche sociali e si vada avanti. Con questo accordo noi cerchiamo di agevolare tutti i cittadini, ma in particolar modo gli anziani, chi ha bisogno di più, chi ha più povero, i pensionati e i disabili per avere agevolazioni fiscali e tributarie che altrimenti non avrebbero, seguendo soltanto una grande burocrazia che non porta mai a nulla. Una detestazione che sia veramente un momento importante per agevolare la vita di coloro i quali sono nel bisogno. C'è un bisogno ovviamente che l'abbiamo constatato nel territorio, l'importanza di questa mattina vuol significare proprio questo, dare ai cittadini un'assistenza diversa dal passato, migliorarla, qualificarla e sicuramente avremmo fatto un buon lavoro. E questo buon lavoro è un auspicio che i comuni recepiscono quello che stiamo facendo nell'interesse di coloro i quali rappresentiamo. Con questo protocollo diamo un ambito più strutturato, diamo delle linee di carattere generale a cui si può fare riferimento. Si parla della necessità di trovare delle forme per individuare dei bisogni che oggi sono inespressi. Pensiamo a tante necessità che a volte anche gli anziani sono costretti a rinunciare perché non riescono a trovare una possibilità di poter avere un diritto, di usufruire di un diritto. Ancora con la pagina sindacale, una manifestazione questa mattina in Piazza Italia Pescara per i lavoratori del pubblico impiego che chiedono il rinnovo del contratto di lavoro e il riconoscimento della loro professionalità. Sono 72 mila in Abruzzo gli impiegati pubblici con un numero di contratti che negli enti locali è sceso del 6,6% rispetto al 2007. Al centro della protesta anche la vertenza aperta in Regione Abruzzo con i sindacati che continuano a chiedere all'Aggiunta un confronto, una riorganizzazione complessiva della macchina burocratica regionale. L'Abruzzo può diventare un modello tra le regioni se investe nelle risorse umane, dicono i sindacati, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa. Dagli ostacoli da superare, continuano i rappresentanti dei lavoratori, al primo posto c'è il mancato decollo della riforma che prevede il trasferimento di alcune funzioni dalle province alle regioni. Poi c'è il piano sociosanitario e la sua gestione che sta creando disagio ai lavoratori. Se la strada del dialogo non dovesse dare risultati, concludono i lavoratori, sono pronti a scioperare. E questa mattina in piazza c'erano anche gli uomini del corpo forestale dello Stato che protestano contro la riforma che prevede la militarizzazione del corpo, il conseguente accorpamento all'arma dei carabinieri e abbiamo ascoltato anche i loro rappresentanti. Vediamo. Noi siamo assolutamente contrari sia come cittadini che come operatori della polizia ambientale perché riteniamo che questo assurdo progetto porterà un arretramento di quelle che saranno le tutele ambientali e le tutele della sicurezza agroalimentare. Protestiamo oggi, abbiamo protestato nei giorni scorsi e laddove il governo non vorrà rescedere dal proprio intendimento acquisiremo migliaia e migliaia di ricorsi affinché questa assurda legge possa essere cancellata. Tra l'altro noi siamo stati riformati già nel 2004 rispetto a tutto il comparto che non è stato mai riformato dall'81, quindi non c'era necessità di questa riforma, assoggettando tutti i lavoratori del corpo forestale dello Stato allo status dei militari. Ora invece la cronaca. Un giovane pugliese di 30 anni originario di Trani è stato trovato morto sul Gran Sasso nella zona di Campo Imperatore. Il ragazzo era disperso dal pomeriggio di ieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo in località La Comba, zona sud-est del Corno Grande, in fondo a un dirupo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente o meglio se si sia scivolato o precipitando nel vuoto e se si sia lanciato volontariamente. La vittima non era attrezzata né equipaggiata per escursioni in alta quota, le ricerche al recupero del corpo con squadre di terra, un'unità cinofila giunta da Roma e personale del TAS. La topografia applicata al soccorso hanno partecipato anche Guardia di Finanza e il corpo forestale. Ci spostiamo perché nella cornice dell'auditorium Casella di L'Aquila è il 164esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il questore terribile assicurato reati in diminuzione in tutto l'Abruzzo grazie anche alla prevenzione e alla collaborazione dei cittadini. Il servizio di Filippo Tronca. Esserci sempre, questo è il tema del 164esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. All'Aquila celebrata nella bella cornice dell'auditorium Casella realizzato nel poster remoto dall'architetto giapponese Sigeru Ban. Nel suo discorso in una sala affollata di autorità ma anche di giovani rappresentanti della società cittadina, il questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, ha rivolto prima di tutto un commosso pensiero a tutti gli appartenenti alla polizia caduti nell'adempimento del loro dovere. Ha ricordato poi che le migliori politiche di intervento in tema di sicurezza sono quelle che prevedono attività preventiva, collaborazione ai cittadini, educazione e rispetto della legalità e ovviamente la rigorosa applicazione della legge. I successi che abbiamo avuto in questa provincia sono stati apprezzati da tutti, continuiamo a lavorare e a mantenere la guardia alta. Devo dire che c'è stata una flessione dei reati in generale, non solo nella provincia dell'Aquila ma su tutto il territorio nazionale e questo lo si deve all'attività di controllo del territorio, all'attività di prevenzione che è stata svolta non solo dalla polizia di Stato ma da tutte le altre forze di polizia. Ci sono delle città oramai in Abruzzo che si stanno dotando di sistemi di videocamera e videosorveglianza proprio per garantire attività di prevenzione e di controllo. La prevenzione diventa un punto fondamentale piuttosto che reprimere, si è capito che è meglio prevenire. A seguire il prefetto della provincia di L'Aquila, Francesco Alecce, il questore, hanno consegnato gli attestati di merito al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento dei compiti di istituto. Riconoscimento e omaggio anche ai ragazzi dell'associazione italiana Persone Down Onlus, Società Atletica L'Aquila e Rugby Experience School. E a proposito di esserci sempre all'auditorio non potevano mancare i veterani dell'associazione Polizia di Stato. Quando uno ci crede sicuramente Poliziotti si rimane sempre, Poliziotti per sempre perché anche se uno va in pensione, se uno dopo che ha fatto una vita sicuramente rimane sempre con quella, diciamo, orgoglio e la mentalità di vivere come quando era in servizio. Non è che cambiano le abitudini, le regole di vita, insomma. E anche Pescara ha celebrato il 164esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia ha avuto luogo all'interno del complesso polifunzionale Fanti di Via Pesaro alla presenza del prefetto Francesco Provolo e del questore Paolo Passamonti, oltre alle massime autorità locali e dei comandanti provinciali delle Forze dell'Ordine. Nel corso della cerimonia sono stati diffusi i dati relativi ai reati commessi a Pescara e provincia. Rispetto al 2015, complessivamente nella provincia scendono i reati del 16% e nel dettaglio in calo, violenze sessuali e furti di vetture ciclomotori. Aumentano invece le rapine in banca. Anche a Pescara città, reati in calo del 13%, dimezzate le denunce per spaccio di stupefacenti, mentre sono aumentate le rapine negli esercizi commerciali del 64%. Infine, nel corso della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti attribuiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di polizia. Ora invece parliamo di guardia di finanza, perché i finanzieri del nucleo dell'Aquila hanno eseguito un sequestro conservativo di disponibilità finanziarie, beni immobili e quote sociali per un valore di 90.000 euro nei confronti dei beneficiari di contributi comunitari percepiti nell'ambito dei fondi strutturali POR FESR 2007-2013, stanziati per attrarre nuove imprese nell'area del cratere sismico. La misura cautelare eseguita fa seguita a una segnalazione inoltrata dalla procura regionale della Corte dei Conti, Abruzzo, dal nucleo di polizia tributaria L'Aquila, al termine di una complessa indagine che ha portato alla scoperta di una truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata dai responsabili di tre imprese aquilane di giocattoli attraverso un sistema di fatturazioni false. Ora invece ci spostiamo a Pescara, si torna a parlare del mercatino etnico, parlano i consiglieri di Forza Italia che dicono no all'impiego di risorse pubbliche per la creazione del nuovo mercatino. Il centrodestra favorevole all'inserimento dei lavoratori nei mercati regionali. Vediamo. Antonelli, la Regione è pronta a stanziare dei fondi per il mercatino etnico, voi non siete d'accordo, perché? Noi pensiamo che sia folle dal punto di vista politico e amministrativo stanziare denaro pubblico che dovrebbe essere in verità investito per promuovere dal punto di vista culturale il nostro territorio, per realizzare un mercato etnico che non ha nulla dal punto di vista promozionale ma invece è un vero e proprio detrattore ambientale. E questa è solo la prima questione. La seconda è che noi siamo assolutamente contrari, ma credo che i cittadini pescaresi la pensino esattamente come noi, all'utilizzo di risorse pubbliche per realizzare una struttura dedicata esclusivamente a persone che non pagano le tasse, mentre i nostri ambulanti, parlo di quelli italiani, nel momento in cui non pagano tre rate della COSAP vengono di fatto espulsi dai mercati regionali. Insomma, è il solito atteggiamento dei due paesi e delle due misure. Noi abbiamo apprezzato l'operazione di sgombro e quello che ha fatto sicuramente il sindaco su impulso anche del prefetto e delle forze di polizia. E invece adesso ci troviamo a distanza di una settimana a immaginare che la soluzione al problema sia peggiore del problema che c'era pescata fino a una settimana fa. Quindi noi faremo di tutto il possibile, dal nostro punto di vista, per il ruolo che rivestiamo, per impedire che questa amministrazione voglia creare un ghetto dove inserire questi operatori che invece dovrebbero essere, per essere integrati, uguali a tutti gli altri operatori mercatari pescaresi. E a Teramo grande affluenza di pubblico per l'edizione 2016 del Career Day. Oltre 20 le aziende partecipanti, 20 presentazioni aziendali realizzate e due seminari su tematiche legate al mondo del lavoro. Ci dice tutto Elisa Leuzzo. Intanto presentiamo questa giornata e l'importanza che ha non solo per voi ma anche per gli studenti, soprattutto. È importantissima perché è un contatto, un momento di contatto con le aziende, i nostri studenti e le aziende. È un Career Day di Polo Umanistico. Tutti i corsi di laurea del nostro Polo Umanistico oggi incontrano enti ed aziende nella prospettiva di un collegamento con il mondo del lavoro. Abbiamo organizzato la giornata privilegiando il contatto diretto aziende e studenti. Abbiamo già diverse centinaia di prenotazioni per colloqui individuali. I risultati delle precedenti edizioni ci confermano che anche attraverso questa giornata è possibile agevolare la ricerca del lavoro. Nelle precedenti edizioni alcuni colloqui hanno portato all'assunzione anche a tempo indeterminato di nostri studenti subito dopo la laurea. Noi vogliamo in questo modo creare un dialogo, un contatto continuo. Presenteremo una nuova piattaforma informatica che rappresenta una sorta di borsino di collegamento fra studenti, laureandi e aziende che cercano nuove professionalità. Sono convinto che attraverso il Career Day, attraverso questa piattaforma, attraverso queste iniziative sarà più semplice e soprattutto più fruttuoso la ricerca di un posto di lavoro per i nostri studenti e io direi anche più coerente con il loro percorso formativo. Quest'anno rispetto alle edizioni passate quante aziende hanno aderito? Abbiamo oltre 30 aziende che sono presenti qui nel nostro Career Day e procederanno con colloqui individuali, procederanno in un recruitment vero e proprio e soprattutto porteranno la loro testimonianza particolarmente utile per l'Ateneo per poter perfezionare meglio il percorso formativo, per gli studenti per muoversi meglio nell'ambito di questo percorso formativo. Si parlerà di Cyber Security domani mattina al Teatro Maruccino di Chieti, un'iniziativa del Corico Mabruzzo nel corso della quale a partire dalle 9.30 professionisti e cittadini incontreranno il Vice Ministro alle Comunicazioni Antonello Giacomelli, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il Vice Presidente del Copasir e altre importanti istituzioni. Vediamo. Si parla di Cyber Security come un fenomeno che abbraccia diverse branchie, quello più conosciuto è quello del cyberbullismo. Il Corecom a fronte di diverse segnalazioni organizza un convegno che unisce da un lato i professionisti del settore e dall'altro anche tutte quelle che sono le potenziali vittime. Assolutamente sì, domani alle 9.30 presso il Teatro Maruccino di Chieti partiamo con questo terzo seminario nazionale dove i maggiori professionisti del settore, le istituzioni, anche le forze dell'ordine che hanno un ruolo fondamentale su queste tematiche formeranno appunto i professionisti del settore ma anche come diceva lei tutta la popolazione interessata al tema su queste tematiche della sicurezza, delle informazioni, della privacy, del cyberbullismo che sono tematiche che sono crescenti nella popolazione sia come problematica ma se vogliamo e se possiamo anche dirlo come opportunità di crescita personale, sociale, di comunicazione tra i cittadini. Tutto nasce da uno sportello che il Corecom organizza, arrivano tantissime denunce e si fa un quadro sempre più dettagliato della situazione. Questo appuntamento dei siti Security Day nasce grazie al professor Teti che qualche anno fa ebbe l'intuizione di avviare un percorso proprio su queste tematiche davvero all'avanguardia allora e noi abbiamo sviluppato poi questo sportello sulla web reputation che ci sta dando soddisfazione perché riusciamo a dare risposte concrete ai cittadini, alle famiglie che ci chiedono supporto, aiuto e a volte anche denunciano casi che sono ovviamente problematici sul web e non solo e quindi abbiamo riscontrato che l'interesse è forte, le problematiche sono crescenti quindi poter intervenire con professionalità e rendersi punto di riferimento, sportello di ascolto e sempre più vicino al territorio diventa fondamentale. Terzo e ultimo ciclo di dibattiti e incontri oggi nella tre giorni dedicata all'auditorium del Parco dell'Aquila, le buone pratiche della ricostruzione abruzzese da esportare nel mondo. L'imponente processo di ricostruzione e restauro in atto del patrimonio storico architettonico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico abruzzese come bagaglio di esperienza e competenza acquisita sul campo, meglio in cantiere, da esportare in tutto il mondo. Questo è il tema portante della terza giornata di Officina l'Aquila, la tre giorni di dibattiti a livello internazionale che celebra oggi il suo ultimo appuntamento all'auditorium del Parco dell'Aquila. La soprintendente Alessandra Vittorini, davanti a un parterre composto anche da imprenditori e professionisti arrivati da molti paesi stranieri, ha aperto il lavoro della mattina illustrando i numeri della ricostruzione del centro storico aquilano, evidenziando come i palazzi conclusi non solo sono stati riportati con un attento restauro alla loro originaria bellezza, ma sono ora anche sicuri sismicamente e più sostenibili dal punto di vista energetico. Con la ricostruzione del patrimonio culturale privato siamo a 240 aggregati approvati, in gran parte con lavori in corso, quasi un centinaio finiti. Stiamo parlando di ben oltre i tre quarti del patrimonio culturale del centro storico dell'Aquila. Tira le fila dell'intenso dibattito il coordinatore dell'evento, Roberto Di Vincenzo. La cosa che sta emergendo già dai corridoi, dai dialoghi che stiamo sviluppando in questi momenti è che c'è una vera domanda internazionale di restauro, c'è un'attenzione nei confronti dell'Aquila che sta crescendo e che il sistema produttivo aquilano può sfruttare un sistema produttivo che è fatto dai progettisti, dalle imprese, dai produttori, perché proprio a breve andremo a discutere con la Romania per portare questa iniziativa in Romania, c'è una domanda del governo, c'è una domanda dell'università per proporre ciò che si sta facendo all'Aquila in Romania. Tra le buone pratiche illustrate a dimostrazione che la ricostruzione è un'impresa che riguarda tutto il territorio abruzzese, non solo quell'aquilano, anche il restauro esemplare e in tempi record dell'abbazia di San Clemente a Casauria, in provincia di Pescara. L'abbazia di San Clemente a Casauria è un caso abbastanza emblematico per varie ragioni, anzitutto perché è uno dei primi monumenti che sono stati restaurati dopo il sisma, dei primi grandi monumenti, è stato inaugurato due anni e due giorni dopo il 6 aprile 2009. Poi è un'abbazia che ha avuto la fortuna di avere degli investitori internazionali, il World Monument Fund che ha finanziato il restauro e nel quale restauro siamo riusciti a interpretare in maniera corretta l'attenzione da una parte verso la sicurezza e dall'altra parte verso la conservazione. La celebre manifestazione Cantina Aperta giunge alla sua ventiquattresima edizione a partecipare, ci saranno 38 etichette regionali, nelle bottaglie della regione sono attesi circa 30.000 hanno turisti e appassionati e l'appuntamento è per sabato e domenica prossima. Un appuntamento importante che si ripete ogni anno anche nella nostra regione grazie al movimento del turismo del vino, voglio ringraziare i dirigenti di questa associazione, in particolar modo il presidente Nicola Gadauria, il 28 e 29 oltre 40 cantine delle quattro province abruzzese resteranno aperte per accogliere i tanti visitatori che negli anni passati hanno visitato le nostre aziende. È un momento di incontro importante, di verifica, di conoscenza, di verifica da vicino, di tutto il processo produttivo delle nostre imprese che si aprono al pubblico, un evento importante che quest'anno è stato anticipato da un'iniziativa brillante sempre promossa dall'Associazione del Movimento del Turismo del Vino con la Transiberiana d'Abruzzo. Nel 2014-2015 si è registrato un più 8% in Abruzzo per quanto riguarda l'export, noi come regione stiamo sostenendo con forza questo processo e questo settore, proprio qualche giorno fa abbiamo pubblicato un nuovo bando per la promozione relativamente all'export nei paesi oltre l'Europa. Abbiamo messo a disposizione 2.700.000 euro per promuovere il nostro vino nel mondo. E per gli appassionati dei sapori e della buona cucina invece, da venerdì a domenica al porto turistico di Pescara ci sarà Di che gusto sei? Manifestazione dedicata all'arte della pasticceria, gelateria e cioccolateria. Tre giorni dedicati ai sapori veri e sani, ai laboratori di cucina, alla degustazione e alla scoperta di tutte le novità del settore. A Pescara torna Di che gusto sei? Festival dedicato all'arte della pasticceria, gelateria e cioccolateria. Un settore che ha avuto una grande espansione negli ultimi anni, non è un caso che questa quarta edizione addirittura veda la presenza di circa 70-80 aziende, alcune anche da fuori regione, presenze importanti, d'attore del gelato è un prodotto che soprattutto in questo periodo ha il suo boom, si avvicina all'estate, per cui crediamo che anche quest'anno sarà un successo notevole con anche qualcosa di particolare, quest'anno si parla del senza glutine. Tantissimi ospiti celebri del piccolo schermo, esperti del settore, una cornice incantevole come quella del porto turistico offriranno divertimento gratuito a bambini e adulti perché la cucina ormai coinvolge a tutte le età. Un padiglione dedicato alla gelateria, pasticceria e cioccolateria con degli ospiti decisamente importanti e di spessore, con il maestro Angelo Grasso che ormai è presidente di giuria e nostro testimone all'ormai da 4 anni. Dobbiamo anche vedere quelle che sono le nuove tendenze del mercato e quindi vedi i blogger ad esempio, quindi Nicola Territo è pasticcere ma blogger di Cucinando Senza Glutine, che quindi verrà e ci darà una serie di dimostrazioni relativamente al Senza Glutine. Ci sarà un terzo padiglione di altri 120 metri quadri, 20 metri quadri, non grandissimo però all'interno del quale è allestita una cucina completa dove c'è la macchina di gelateria, c'è il forno, ci sono i tavoli di lavoro, c'è tutto. I bambini vestiti da chef, dalla punta dei piedi fino alla testa avranno questi corsi. Ogni ora ci sarà un corso completamente gratuito. Il primo corso è di pasticceria, il secondo è di Senza Glutine, il terzo è di gelateria, il quarto è di cake design e il quinto è di panificazione, tutti i giorni in questa maniera. Ci saranno tante demo, tante cose, l'ingresso è gratuito, il parcheggio è gratuito perché se ne occupate l'associazione di che gusto sei e insomma noi aspettiamo ancora tantissima gente. E ora apriamo la pagina dello sport e iniziamo dalla Serie B con la vittoria di ieri sera in casa del Bari per 3 a 4 il Novara dell'ex allenatore del Pescara Marco Baroni sarà il prossimo avversario dei bianco-azzurri nella semifinale dei play-off, promozione della Serie B. Dunque sarà una partita dalle mille emozioni e non solo perché ci si gioca la possibilità di accedere alla finale per la promozione in Serie A contro la vincente del doppio confronto tra Trapani e Spezia. E ora ascoltiamo le parole del centrocampista del Pescara, Alessandro Bruno. C'è un po' di rammarico per questo terzo posto che ci è sfuggito però comunque partiamo da una posizione positiva cerchiamo di affrontare questa prima semifinale con un grande spirito con grande voglia di vincere perché abbiamo tutte le qualità per farlo. Non si possono vincere questi play-off solo con le qualità tecniche dobbiamo mettere anche condizioni fisica e mentale che quella è determinante per affrontare questi partiti che sono belle da affrontare, da giocare ma sono anche le più parecchie difficili, ricche di insidia. Siamo bene, noi quotidianamente facciamo dei test, lavoriamo con i cardio quindi la condizione fisica c'è. Speriamo adesso di recuperare anche qualche altro ragazzo che ha avuto qualche problema in settimana penso che la Rosa sia bene fisicamente e dobbiamo essere tutti proiettati verso un unico obiettivo. Novara è una squadra molto sgorbutica perché gioca di ripartenza ha questo campo che è sintetico quindi loro sono un po' più abituati a giocare su questo terreno ha giocatori davanti che sono bravi nelle ripartenze bisogna prenderla con le molle perché, ripeto, nel momento in cui tu pensi che stai facendo una grande partita, nel momento in cui pensi che tu le stai schiacciando loro con una ripartenza possono mettere difficoltà e possono farti male. Il Teramo Calcio ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Lamberto Zauli e allora il presidente Luciano Campitelli spiega il perché di questa scelta. Ascoltiamo. Presidente, contento di Lamberto Zauli? Che gli è sembrato? Vabbè, contentissimo perché sapevamo il suo valore viene con delle motivazioni che oggi tutti noi abbiamo bisogno io come presidente, la piazza come piazza quindi siamo contenti credo che è un allenatore emergente mi ricorda il primo anno di Varini quindi speriamo che ci porti tanta fortuna e che possiamo iniziare il prossimo anno a fare un buon campionato. Che cosa l'ha convinto nella scelta? Perché è stato scelto Zauli? Ma se ti dico che la prima volta che l'ho visto mi ha detto che volevo fare i playoff con il Sant'Arcangelo ho rivisto me dal primo giorno che ho preso il Teramo quindi che ha degli obiettivi poi le cose sicuramente possono andare bene o male noi faremo di tutto per cercare di rifare con una parte del vecchio gruppo tanti giovani, una squadra che ha voglia poi qualsiasi saranno risultati ma che ci faccia divertire e che si torni ad avere quel giusto entusiasmo che non abbiamo avuto forse l'anno scorso. Un progetto a lunga e media scadenza come sarà con Zauli? Sicuramente un progetto a media e lunga scadenza. Clima elettrico all'Aquila due giorni dallo spareggio che vale la salvezza in Lega Pro a Rimini previsto un esodo di tifosi aquilani il tecnico Perrone però dovrà rinunciare di nuovo all'infortunato Pesoli il servizio di Gianmarco Menga. Solo due giorni, poi si saprà se l'Aquila Calcio giocherà in Lega Pro anche il prossimo anno i tifosi sono in pieno fermento per la partitissima spareggio di sabato pomeriggio a Rimini con il passare delle ore il tifo rosso-blu si sta rendendo conto dell'importanza della posta in palio tanto che in Romagna si preannuncia un esodo di aquilani. Ad incentivare la trasferta c'è anche la notizia arrivata ieri dal GOS di Rimini che ha concesso l'attivazione dell'1-1 Porto un Amico allo stadio. Al momento la prevendita che è iniziata ieri mattina si attesta su un centinaio di biglietti venduti collegando la stima ai due pullman già riempiti. Intanto la squadra di Perrone sta ultimando la preparazione alla trasferta che vale il futuro sportivo dell'Aquila. Nel corso della partitella in famiglia di ieri mattina giocata nel nuovo stadio di Acquasanta un centinaio di ultra aquilani si è sistemato sulle gradinate della Curva Sud per incitare i giocatori durante l'allenamento. È stato anche affisso uno striscione con scritto fino all'ultimo secondo per ribadire il concetto di unione di intenti che si dovrà avere negli ultimi 90 minuti di questa allogorante stagione. Sul fronte formazione ancora brutte notizie sul centrale difensivo Emanuele Pesoli che non riuscirà a recuperare dall'infortunio alla Caviglia. Ha invece recuperato dall'attacco influenzale Simone Piva che sabato dovrebbe essere confermato nel trio difensivo con Maccarrone e Cosentini. Il condizionale è d'obbligo perché l'allenatore aquilano sta pensando anche al giovane Bruno al suo posto. Nella seduta di lavoro di ieri si è messo in evidenza anche il giovane attaccante della Berretti Mamadou Fal, classe 1997 ormai da tre settimane aggregato alla prima squadra. Il tecnico Perrone starebbe pensando di utilizzarlo a partita in corso nel caso di necessità. Salgono infine le quotazioni di Andrea Mancini come partner del capitano De Sosa nel reparto d'attacco. Se così fosse partirebbe dalla panchina Raffaele Perna tra i più criticati dal pubblico rosso-blu negli ultimi mesi per la poca efficacia sottoporta. È tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23. Buona serata.